In verità, in verità vi dico, chi dicesse a questo monte, levati e gettati nel mare senza esitare in cuor suo, ma sentendo che quanto dice avverrà, ciò avverrà. Tu hai l'onipotenza, usala. E cos'è questa onipotenza? È una sintonia, una sintonia. Dentro di te esistono delle antenne percettive che sentono tante cose che stanno per avvenire. E se tu dai una spintina da una parte o dall'altra, di queste tante cose che stanno per avvenire, ne avviene una e non avvengono le altre. In qualche modo tu collabori a questa possibilità. Non è poco, è tantissimo. È una cosa che fa un'impressione. Sì, vertigine. Tutte le volte, io non ho ancora capito del tutto, perché capire questo versetto qui, come essere su una brete di roccia, non sei ancora arrivato. No, non sei ancora arrivato. Tutte le volte che ne riparli ti accorgi che sei a metà della parete. È un sesto grado, devi piantare i chiosi, eccetera. Grazie.